La cantina più alta della Valpolicella classica, quella di Tiziano Accordini. Continua il viaggio nel mondo del vino che ci propone Stefano Albrigi. Buongiorno a tutti, sono Stefano Albrigi di Albrigi Tecnologie. Anche oggi vi proponiamo un servizio di Albrigi Vera. Ci spostiamo in Valpolicella, precisamente nel paese di Fumane, in località Cavalo. Andiamo nell'azienda agricola di Stefano Corbini che produce grandi vini, gestita da Tiziano Accordini e del fratello Daniele. Quest'azienda si trova in collina, nell'alta collina, nel lato ovest della Valpolicella e produce dei vini rossi di grande pregio. Qui abbiamo fornito degli impianti speciali di vinificazione adatti a quelli che sono i volti della cantina sagomando la forma del contenitore giusto che si incastri nello spazio disponibile. Qui abbiamo fornito i serbatoi con i pali rompicappello per fare la fermentazione di vini rossi con il sistema dell'astage alla francese, precisamente con la tecnica della zona di Bordeaux, dove eseguono dell'astage a secco, cioè estragono il mosto, fanno scendere il cappello delle vinacce che attraversa i pali rompicappello, fanno depositare le vinacce quasi asciutte sul fondo, aspettano una, due, tre ore in maniera che la vinacce si riscalda, poi rimettono il mosto dalla parte superiore e irrorano tutto il cappello che baneandosi si alza, riattraversa i pali e si scioglie molto dolcemente senza procurare stress. E così noi abbiamo l'irrorazione completa del cappello di vinacce, abbiamo il cappello che è completamente disgregato e abbiamo dato il massimo del contatto mosto-buccia fra buccia e mosto. Ringrazio la famiglia Accordini, auguro a tutti buon vino e buona giornata. Sì, eccoci qua, quindi cerco un po' di fare un'introduzione della nostra azienda, l'azienda Stefano Accordini, fondata da mio padre ma anche da mio nonno, da mio nonno Gaetano. Ora siamo la quarta generazione che fa questo mestiere, siamo di chiare origini contadine perché mio padre era un mezzadro e ne andiamo molto fieri di portare avanti questo lavoro che ci impegna e che adesso ci porta ad andare avanti. Siamo nell'alta Valpolicella, precisamente come diceva prima Stefano nel comune di Fumane, siamo a circa 450-550 metri, quindi nell'alta Valpolicella e producendo principalmente uve rosse, quindi Corrina, Rondinella, Molinara, abbiamo vini con un'ottima acidità, quindi vini molto eleganti, molto longevi. Abbiamo una proprietà di circa 27 ettari di vigneto e 2 ettari, 2 ettari e qualcosa di olive. La nostra azienda esporta circa l'80% di export, il resto è in Italia. Come dicevo prima, produciamo principalmente vini rossi. Ho visto una buona introduzione di Stefano, quindi cercherò di spiegare quello che facciamo durante i nostri lavori normali di cantina, quindi la vinificazione e la fermentazione è quasi sempre a temperature controllate, specialmente per i Valpolicella, che andiamo a vinificare le uve ancora con delle temperature abbastanza alte, quindi cerchiamo di avere delle fermentazioni attorno ai 20-25-26 gradi. Stesso discorso sempre anche per le fermentazioni dell'Amarone, ad avere quelle temperature lì, quindi avere delle temperature costanti. Siamo un'azienda certificata biologica e la nostra prima annata di uscita dell'Amarone sarà il 2019 di Amarone Biologico, ma continuiamo a produrre i nostri vini dal Valpolicella classico al Valpolicella superiore, dal Valpolicella ripasso all'Amarone. Diciamo che una cosa molto importante, in questi periodi tutti noi produttori della Valpolicella abbiamo aumentato i nostri sforzi, ci siamo concentrati soprattutto per produrre vini importanti, vini come l'Amarone, ovviamente sono i vini che ci hanno aperto molti mercati, ma diciamo che noi come idea di produzione dell'azienda puntiamo molto alla tradizione e continuiamo e continueremo sempre a produrre un Valpolicella classico che qualche collega purtroppo ha deciso di non produrre più. Continuiamo a produrre sempre Valpolicella classico, Valpolicella superiore e ovviamente ripasso rifermentato sulle vinacce dell'Amarone. Cosa dire? Inoltre che ci troviamo appunto in quest'area della Valpolicella, siamo tra le cantine più alte della Valpolicella perché siamo sui 500-550 metri la nostra cantina. Gli altri vigneti, abbiamo vigneti nel comune di Negrar, abbiamo vigneti nel comune di Fumane, abbiamo vigneti nel comune di Sant'Ambrogio e ultimamente abbiamo acquistato anche nel comune di Grezzana. Quindi siamo un'azienda che cerca un po' di espandersi e siamo fortemente legati al territorio, fortemente legati alle tradizioni, quello che faceva mio padre molto appassionato di vigna e magari nei vigneti lui era il comandante e noi cercavamo di produrre e trasformare il suo lavoro delle uve in vino. Come dicevo, siamo appunto una famiglia e tanto per dire mio padre era un mezzadro. Quindi ecco, un grande saluto, un grande abbraccio a Stefano Albrigi e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.